Eccomi, bimbi, finiamo di correggere le nostre cose. Allora, avete provato? Vediamo un attimino che cosa viene fuori. Allora, 1153. Togliamo due centinaia. Se tolgo una centinaia diventa 1053. Giusto? E se tolgo ancora una centinaia diventa 953, perché il 1000 se ne va. Quindi 953, ma non è 953, perché a 53 devo togliere tre decine. Quindi 53, torno indietro. 43, 33, 23. 923. 809. Togliamo due centinaia. 809, 709, 609. Ma devo togliere tre decine. Quindi sono a 700, ma non è 709. Da, tolgo... Devo togliere... Sono a 709, giusto? Ma non è 709. Devo togliere tre decine. Quindi diventerà 600, 699. Vediamo, aspettate, per sicurezza. Allora, esatto, 699. Ne tolgo ancora una. 689. Ne tolgo ancora una. 679 diventerà questa. Esattamente. La cancelliamo. 679. 679. 400. Togliamo due centinaia, diventa 200. Da 200 tolgo tre decine. Quindi 200 meno 10 diventa 190, 180, 170. Ok? Molto bene. Adesso, perché abbiamo fatto questi esercizi di ripasso, di scomposizione, di aggiungere centinaia, decine, è sempre molto importante fare questo lavoro, eh, bambini? Andiamo a fare un po' di frazioni. Vedete che c'è anche scritto ripasso, proprio. Allora, le nostre frazioni. Anche qui, mi raccomando, ricopiate queste cose. Grazie. Avete tutto il tempo per ricopiarvele, eh? Allora, osserva ogni figura e scrivi il denominatore della frazione. Allora, il denominatore è in quante parti è stato diviso l'intero. In quante parti è stato diviso l'intero? Vediamo. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E ne è stata colorata solo una, quindi un ottavo. Ok? Qui in quante parti è stato diviso l'intero? Una, due, tre, quattro, cinque. Quindi un quinto. Qui vediamo una, due, tre, quattro, cinque, sei. Quindi un sesto. E qui tre, sei, nove. Un nono. Adesso mettete in pausa e provate a fare da soli queste. A scrivere il denominatore, cioè in quante parti è stato diviso l'intero, mentre il numeratore mi indica quante parti ne ho prese. Mettete in pausa. Molto bene. Vediamo se avete fatto giusto. Qui abbiamo uno, due, tre, quattro, cinque. Quindi due quinti. Qui abbiamo tre, tre, sei. Quindi cinque sesti. Qui abbiamo tre, quattro, cinque, sei, sette. Tre settimi. Qui abbiamo uno, due, tre. Due terzi. Avete fatto giusto? Mi auguro proprio di sì. Osserva la parte colorata di ogni figura. Scrivi il numeratore. Oh, adesso abbiamo il denominatore, cioè in quante parti è stato diviso l'intero. Ma dobbiamo scrivere quante parti ne abbiamo prese. E come lo osserviamo? Guardando la parte colorata. Qui. Qui quanto ne abbiamo prese? Beh, una, un settimo. Qui, una, un terzo. Qui, una, un mezzo, la metà. Qui, una, un quarto. Questa sotto chiudete e provate, cioè mettete in pausa e provate a fare da soli. E poi riaccendete. Allora, qui abbiamo una, due, tre. Tre quinti. Qui quanti ne ho prese? Tre, tre quarti. Qui quanti ne ho prese? Una, due, tre, quattro, cinque. Cinque settimi. Qui quanti ne ho prese? Due. Due terzi. Molto bene. Vediamo questo. Colora la parte di figura indicata dalla frazione. Oh, qua bisogna colorare. E noi coloriamo. E noi coloriamo. Va bene? Pennarello, pennello, cioè. Coloriamo. Allora, un quinto. dobbiamo colorare la parte di figura indicata dalla frazione. Quindi un quinto vuol dire che è stato diviso in cinque parti, ma che io ne ho presa solo una. Due settimi. Cosa vuol dire? Che io ne ho prese solo due. Cinque ottavi. Cosa vuol dire? Che io ne ho presa una, due, tre, quattro e cinque. Queste tre, provate a farle da soli, come stiamo facendo adesso. Chiudete e poi riattaccate. Vi aspetto. Allora, avete provato? Sette noni. Quanti ne colorerò? Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Tre quarti vuol dire che ne colorerò. Una, due e tre. Scusate. Se ne è andato. E tre, due sesti. Una e due. Avete fatto giusto? Speriamo di sì. Allora, questo esercizio invece, che cos'è? Dice semplicemente qui, cosa dice? Riscrivi questi numeri in ordine... Aspettate, bambini, perché è molto grande la foto e non si riesce a vedere niente. Vediamo un po' se così si riesce a vedere. Non me la fa vedere. Vediamo. Ecco. Numeri operazioni. Ok. Riscrivi questi numeri in ordine crescente. Allora, adesso mettete in pausa, ok? E provate a farlo. Ok, bambini. Allora, guardate un po' se l'avete fatto giusto. Dovevate riscrivere questi numeri in ordine crescente. Molto bene. Allora, guardate un attimo. Il primo, quindi dal più piccolo al più grande. 15.900. Poi abbiamo 15.898. Poi abbiamo 15.988. Poi abbiamo 18.888. Poi abbiamo 18.898. E poi 1.900. Nell'esercizio 2 bisogna riscrivere questi numeri in ordine decrescente, cioè dal più grande al più piccolo. Allora, mettiamo pausa e provate a farlo. Ok, bambini. Allora, guardate un attimo in ordine decrescente, dal più grande al più piccolo. 11.874, 9.891, 9.563, 9.006, 8.999, 1.986. Adesso, scrivi una cifra in modo che ogni confronto sia corretto. Cosa significa? Allora, scrivi una cifra che sia corretta, perché qua mi dice che 3.454 è minore di 3.453, va bene, 3 per esempio, o 2. 12.25 è minore di 12.525, quindi 12.325 è minore di 12.525. Poi abbiamo, qui manca la prima cifra, no? 781 maggiore di 4.781, beh, solamente migliaia, quindi 5.781 è maggiore di 4.781. 570 è maggiore di 590. 15.901 è minore di 15.900. 902, scusate, minore. 15.901 è minore di 15.903, per esempio. Poi, 2.000, non si sa, è minore di 2.618. 2.608 è minore di 2.618, ok? Poi, 846 è minore di 746. 500 è minore di 5.679 è maggiore di 5.779, va bene? Scopri la regola della numerazione e riscrivila nel cartellino, poi scopri il numero sbagliato e correggilo. Allora, bambini, vi dico una cosa, mancano, manca poco. Allora, proviamo a fare questo, scopri la regola della numerazione e scrivila nel cartellino, poi scopri il numero sbagliato e correggilo. Vediamo un attimo. 3.715 3.675 3.635 3.595 3.545 3.515 Allora, bisogna capire che cosa sta facendo, sta omettendo, sta mettendo decine, sta mettendo centinaia, bisogna insieme capire come, come, qual è la regola. Proviamo un attimo, bisogna studiarci, eh? Allora, 3.000, poi c'è un numero che è sbagliato, che bisogna correggerlo, e va bene, ok? Allora, 3.715 diventa 3.675 Poi, diventa 3.635 Ok? Quindi si abbassa Qui si rialza, diventa 6.595 Qui diventa 3.545 Qui 3.515 Allora, siccome adesso sta per finire il tempo, io vi lascio da fare questo esercizio da soli, lo rivediamo venerdì insieme E dovete fare, eseguire le operazioni in colonna e riportare il risultato Sono due addizioni senza virgola, eh? Due sottrazioni, due moltiplicazioni e due divisioni D'accordo? Per quanto riguarda Kaila e... Kaila, tu le fai con una cifra sola, quindi col 6 e col 7 Va bene? Allora, dovete fare... Non dovete mandarmeli, eh, bambini? Sia chiaro Dovete... Dovete... Scusate Non trovo più l'esercizio che abbiamo appena fatto E' sparito E' sparito l'esercizio Quello dei numeri cresce... Ah, eccolo qua Non lo trovavo più Allora, dovete fare il 4 da soli Non dovete mandarmelo Non dovete mandarmelo Perché lo vediamo insieme venerdì Questo E Le operazioni Ok? Che dovete ricopiare Sul quaderno e fare Molto bene Vi mando un grossissimo bacio E ci vediamo prestissimo Ciao ciao